Lo scorso 17 dicembre, dunque un mese ed una settimana dietro, le nostre telecamere vi hanno mostrato la devastazione commessa da sconosciuti e danni del parco urbano che sorge in via Pitagora, nella zona di Piano Notaro a Gela. C'erano i giochi che, teppisti senza scrupoli, hanno raso al suolo un parco infestato da atti vandalici e da giovani irresponsabili. Alcuni giorni dopo il servizio, alcuni residenti della zona hanno scritto una lunga lettera di denuncia pervenuta alla nostra redazione, rimarcando la presenza quotidiana di quelli che gli stessi residenti hanno ribattezzato come assalitori che tutto distruggono. Da quel servizio televisivo sono passati 40 giorni e nulla è accaduto. Tutto è rimasto com'è. I giochi rotti sono sempre lì, attorniati dall'erbacce. Adesso alcuni consiglieri comunali hanno investito del caso il sindaco. Attendono risposte immediate anche per il parco giochi che si trova in Viale Enrico Mattei a Macchitella. Questa interrogazione sui parchi giochi nasce dal fatto che sia quello di Piano Notaro che di Viale Enrico Mattei sono in condizione disastrata. Già la vostra emittente in passato aveva fatto un servizio in questo senso, ma nulla è successo. Oggi i consiglieri comunali, San Mito, Napolitano, Caruso e gli altri firmatari dell'interrogazione vogliono l'amministrazione affinché con l'arrivo della bella stagione possa permettere ai bambini, ai loro nonni, alle famiglie di poter soffrire di quei pochi parchi giochi che sono presenti nella nostra città. L'intergruppo consigliare, rivolgendosi al sindaco, sottolinea che il mancato intervento nelle due strutture rappresenta una mancanza di rispetto per la gente che vorrebbe recarsi proprio ai parchi. Bisogna intervenire con una piccolissima ed ordinaria manutenzione. Anche in via Redi c'era prima esistente un parco giochi che oggi è proprio inesistente, non c'è nulla. Quindi voglio dare forza a questa interrogazione affinché l'amministrazione si impegni fin da subito a ripristinare lo stato di fatto di questi parchi giochi, in modo da dare la possibilità a quei bambini che vogliono andare a passare mezzogiornata con queste belle giornate di sole nella tranquillità più assoluta.